guarda quelli balighi che alza la mano dove vai che alza in alto la mano bella ragazzi bentornati sul mio canale siamo qui oggi con un nuovo video juventus napoli e non potevo non farlo con vegas ciao ragazzi dovete subito pronosticare juventus napoli mi raccomando fatelo bene questa partita a noi serve quindi speriamo nella madre giusta che vada bene si serve al napoli più che la juve questa partita per l'accesso alla zona europa no allora io lascio così e si può partire per me si va e lasciamo così ci sta ci sta allo juventus stadium di torino juventus napoli anche se l'ultima partita che abbiamo fatto non mi ricordo come era andata mi pare che ho vinto io mi pare che hai vinto tu se non sbaglio dai cerchiamo speriamo che il napoli si rifaccia facciamola girare mertens così verso i guain che prova all'1-2 ma mertens oh no pirlo attenzione cos'è regolare è stata questa palla ma dai ma com'è passata questa palla non lo so com'è passata ma cos'è quel buco voglio rivederlo che schifo dai guarda con i balighi alza la mano dove vai che alza in alto la mano segna sempre la 1-0 che schifo dai napoli te prego ma cos'è questa lentezza dei miei giocatori dai sveglia un po calma facciamo già questa palla dai cambio campo no ma che merda di passaggi che fanno dai galletti no ci credo sì il gol di male chiaro 1-1 subito subito partita intensa bene così bene così un tiro dalla parte e un tiro dall'altra ed è 1-1 amici gol dai diciamo un po due papore della difesa e poi vabbè buffon ha fatto quel che poteva dai si parte si parte dai dai carico il napoli adesso dobbiamo sfruttare dobbiamo sfruttare l'apice del della della foga cazzo io renta attenzione all'orente che non corre mai nella vita così dai mare così piano sui guaino ti ricordo che pogba fa i golassi solo al napoli infatti attenzione il più vita centrale ma c'è un fuciliere e qual fa facendo un percorre come non pochi non ho fermato c'è una mare chiaro mare chiaro mare chiaro come la presa c'è una piazzatissima super verde stiamo mettendo pressione oddio come ci credo come l'hai salvata oddio si parte col contropiede guardano presa ho sbagliato no non ho sbagliato pensioni come l'hai presa quella palla palla è incredibile la sfortuna del napoli pure su fifa cazzo dai verso mare chiaro mare chiaro si vuole girare c'è ancora lui mamma mia ragazzi il napoli sta pressando eh cariume non sta accadendo niente negli ultimi dieci minuti sto ribambendo dai così cos'è cos'è sto tiro oddio adesso mette diciamo un po il piccolino qua mertens no niente mertens no la vuole provare a giro mamma mia non ci credo non ci credo ancora questi colpi così eh ti spaccio il giocatore te lo massacro è partita la pace tevez 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 no dai cazzo una di quelle tre poteva entrare c'è un bufano ha fatto un miracolo allucinante 8 tiri in porta cazzo dai vabbè speriamo che non sia così sabato perché no no quante pesce temi che gli tiro cazzo non lag cioè prima si adesso no attenzione guarda dai è ridicolo è ridicolo questo gioco lo script ancora c'è è ridicolo passiamo tutti a profusion soccer ragazzi devo dire che fa de merda ho fatto tre tiri raga due gol guarda come passa tevez si passa come niente sta andando a raccogli fiorellini al parco poi poi la tira così tranquille e la palla entra e vabbè ci sta ci sta dai marichiaro fai qualcosina mare cora non sa che fare perché è lento come la morte marek però ci vuole provare cos'è il suo tiro di merda non passa non passa marchesio è chiuso tutto qua eh c'è più un buco per passare cazzo dai mare no marichiaro nooo sì il bevita la stacca non ci credo andava quasi andava a due viva viva il napoli dai ho tanto teso dai così è finita 2 a 2 amici è stato inutile per tutti però è stata una bella partita dai il napoli ci ha provato a spodestare lo stadium eh partita epica perché comunque ricordiamolo vegas al primo tempo non la palla non entrava no non entrava dai doppietta di tevez e invece amsic e coine per il napoli sì adesso vediamo subito le statistiche per confermare quello che era successo nel primo tempo infatti ragazzi tiri ho fatto 10 tiri di vegas invece e due gol vabbè buon partito sky tevez io ringrazio invece vegas per questo super big battle grazie a te mi raccomando lasciate tanti dai spaccate il like iscrivetevi perché se no siete game over da tatino e vegas è tutto ciao ragazzi ciao